Vogliamo parlare di arte? La stritta non è arte. La ricchezza dell'Italia e dei centri urbani italiani è che siano la somma di una stratificazione di arti. Cioè l'arte si è sempre prodotta affiancandosi e sovrapponendosi a quella preesistente. La stritta è un linguaggio immediato. Una manualità che diventa arte. Parti dal basso. Dalla vita vera. Non vai mai avere differenza tra galleria di arte e rua. L'emozione è dove è collocata, per come è stata fatta e per la bellezza entristica dell'opera. È una forma d'arte molto libera, che raggiunge tante persone. Un po' di vita, insomma, questo cemento, ecco. Un tremore dentro. È arte, è semplicemente arte. Vediamo, vediamo. Il mio nome è, io mi chiamo 1-0-1-0-1-0-1-0 Sono Hola MCT Mi chiamo, meglio che sono, ma meglio sono Edoardo, Edoardo Cobra Mi chiamo, Ro, 1010 Mi chiamo Agostini che bruci Edoardo, Edoardo, Edoardo